E qui dovrebbero esserci le cucine Aspetta che scendo giù, piano Piano perché si scivola qua, cioè che è buio Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video di esplorazione urbane Dove mi trovo oggi? Mi trovo in un posto molto particolare perché è la vecchia, il vecchio bagno della polizia Qua per quello che so io era il luogo dove appunto i polizioni con i loro parenti e la loro famiglia venivano a trascorrere appunto le stade Io vi lascerò qui di seguito l'esplorazione, il documentario e le riprese fatte col drone di questo posto Che è veramente qualcosa di eccezionale Buona visione L'ex bagno della polizia era un luogo dimenticato avvolto dal bosco e immerso in un'atmosfera di mistero Gli alberi secolari si ergevano come guardiani silenziosi Le loro fronde creando un tetto naturale che filtrava la luce del sole rendendo l'area intorno quasi magica Il tempo sembrava essersi fermato lì mentre la vegetazione reclamava lentamente ciò che l'uomo aveva abbandonato L'edificio, una struttura di mattoni, si nascondeva tra la folta vegetazione Con le finestre rotte che sembravano occhi spenti, testimoni di un passato remoto I muri coperti di muschio o edera raccontavano storie di un'epoca in cui quel luogo era vivo Animato da voci e rumori quotidiani Ora invece regnava un silenzio inquietante interrotto solo dal fruscio delle foglie e dal cinguettio degli uccelli Entrando si avvertiva un'aria umida e fredda I pavimenti erano coperti di detriti e rifiuti, segno di una vita che un tempo pulsava tra quelle pareti Le cabine di doccia, ancora in piedi ma fattiscenti, sembravano sussurrare le storie dei prigionieri, di interrogatori e di vite incrociate Alcune porte penzolavano, scricchiolando al minimo movimento, come se volessero raccontare i segreti che avevano visto Ogni angolo era un ricordo, un eco del passato Un vecchio lavandino arrugginito si ergeva in un angolo circondato da graffiti che raccontavano di chi aveva cercato rifugio o ribellione in quel posto Le pareti erano segnate da scritte, alcune crudele, altre poeticamente nostalgiche Un mix di voce che si erano sovrapposte nel tempo Camminando attraverso le stanze desolate si respirava una sensazione di rispetto e meraviglia Questo luogo, seppur abbandonato, era intriso di storie, di persone che avevano attraversato quel posto lasciando un'impronta nel suo tessuto I raggi di sole filtravano attraverso le aperture illuminando piccoli angoli come a voler celebrare la memoria di ciò che c'era stato Nell'ex bagno della polizia una piscina abbandonata emergeva come un'ombra del passato incastonata tra le mula decrepite Le piastrelle blu ormai scrostate e coperte di muschio raccontavano di giorni in cui quel luogo era vibrante di vita e attività L'acqua, un tempo cristallina, ora giaceva stagnante e opaca La piscina era circondata da un'atmosfera di incertezza Chi l'aveva utilizzata? Erano i puliziotti a rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro? Oppure era un luogo di detenzione temporale? Una sorta di punizione? I graffiti sui muri e i resti di oggetti sparsi intorno Sollevavano domande ma non offrivano risposte definitive Ogni segno di vita sembrava nascere da una storia che rimaneva oscura Il silenzio che avvolgeva la piscina era carico di nostalgia Le risate e i tuffi di un tempo erano sostituiti da un sussurro del vento Che passava attraverso le crepe delle pareti Il profumo dell'umidità si mescolava a quello della vegetazione Che stava lentamente riconquistando il suo spazio Mentre piccole piante crescevano tra le crepe del pavimento Entrando nella struttura dell'ex bagno Ci trovammo subito di fronte a un'atmosfera di abbandono e mistero Le porte in parte aperte si affacciavano su stanze buie Illuminate solo dalla luce che filtrava attraverso le finestre ronde Ogni passo sembrava risuonare nel silenzio Amplificando la nostra curiosità e inquietudine Le travi di legno visibilmente usurate dal tempo Scricchiolavano sotto il nostro peso Come se volessero avvisarci di fare attenzione Alcune stanze erano più ampie Con pareti ricoperte di graffiti e documenti ingialliti sparsi sul pavimento In un angolo notammo un vecchio tavolo Sulla quale giacevano strumenti di lavoro eroginiti e oggetti dimenticati Ma la loro funzione ci sfuggiva Una scala in legno inclinata e usurata si snodava verso il piano superiore La salivamo con cautela chiedendoci cosa potessimo trovare lì Ogni gradino ci portava più in alto ma anche più lontano da risposte certe Una volta arrivati al piano superiore ci si apri davanti a una serie di stanze di piccole dimensioni Ognuna con un'atmosfera unica e misteriosa Grazie a tutti! Guardate amici dove siamo in questo momento Guardate che interni spettacolari Guardate che roba Spettacolare Adesso vi riporterò qui di seguito anche le riprese che ho fatto con il drone Perché sono veramente eccezionali Le ho fatte da fuori e dopo le farò anche da dentro Faremo volare un drone qua dentro Non riuscivamo a capire che tipo di luogo fosse realmente quello Erano spazi destinati a riposo o all'interrogatorio Erano stanze per i relax degli agenti o per la custodia dei detenuti Le pareti con le loro macchie graffi raccontavano storie di un tempo che non potevamo afferrare completamente Ci scambiavamo sguardi interrogativi Ognuno di noi cercando di decifrare l'enigma di quel posto Mentre esploravamo un senso di rispettosa meraviglia ci avvolgevano Rendendo ogni scoperta più affascinante e inquietante Era come se il luogo volesse rimanere custodito nel suo mistero E noi eravamo solo intrusi Passanti di una storia che continuava a vivere tra le mura dimenticate Passanti di una storia che continuava a vivere tra le mura dimenticate Continuando a salire le scale ci sentivamo sempre più in alto Quasi sospesi tra il passato e il presente Ogni gradino scricchiolante ci avvicinava al tetto piano dell'edificio Finalmente arrivati in cima ci trovammo di fronte a un panorama inaspettato Il tetto era un luogo di transizione coperte di pozzanghere Che riflettevano al cielo grigio Mentre piccole piante e moschio lottavano per affermare la loro presenza I resti di una struttura abbandonata si mescolavano con la natura Che nel suo lento processo di riconquista stava riempendo ogni angolo Era una scena di bellezza selvaggia e disordine Un contrasto affascinante Mentre camminavamo le piante si spostavano leggermente al passaggio del vento Creando un effetto quasi incantato Ci sentivamo a volte da una sorta di calma Come se il bosco intorno a noi stesse tendendo una tela di segreti e storie La vegetazione si estendeva all'orizzonte Una distesa verde che sembrava inghiottire l'edificio Facendolo diventare parte integrante del passaggio Facendolo diventare parte integrante del passaggio guardando oltre il bordo del tetto il bosco si presentava in tutto il suo splendore un mare di alberi e fogli dai colori autunnali che sfumavano dal verde al dorato la vista era mozzafiato e per un momento ci dimenticamo del mistero dell'edificio persi nella bellezza del momento era come se fossimo stati catapultati in un altro mondo lontani dalla frenesia della vita quotidiana in quel silenzio ci scambiamo sguardi di stupore e meraviglia il tetto un tempo probabilmente accessibile per motivi pratici era ora diventato un rifugio per la natura è un osservatorio privilegiato su un ecosistema vibrante mentre esploravamo quel luogo dimenticato sentivamo di essere testimoni di una storia in continua evoluzione in cui l'uomo e la natura si intrecciavano in modi inaspettabili ogni passo era un invito a riflettere su ciò che era stato e su ciò che sarebbe potuto essere un promemoria che nonostante l'abbandono la vita continuava a fluire testimoniando e trasformando quel luogo in qualcosa di nuovo e misterioso mentre ci immergevamo nella bellezza del tetto e nel silenzio del bosco un'improvvisa sensazione di disagio si colpì era come se fossimo osservati un intuizione che crebbe lentamente insinuandosi nei nostri pensieri ci scambiamo sguardi ma nessuno di noi osava parlare la sensazione di essere in pericolo era palpabile continuamo a esplorare ma l'aria si faceva sempre più pesante un rumore lontano quasi un fruscio catturò la nostra attenzione ci voltammo di scatto ma non vedemmo nulla il nostro cuore iniziò a battere più forte e il bosco intorno a noi un tempo tranquillo sembrava ora un labirinto di ombre decidemmo di scendere ma mentre ci avviamo verso la scala il rumore si fece più vicino un lievo e scritto l'io che sembrava seguire i nostri passi il panico ci assalì dobbiamo andare sussurrai mentre il mio sguardo cercava disperatamente un'uscita un'uscita e qui dovrebbero esserci le cucine aspetta che scendo giù piano piano perché si scivola qua c'è che è buio via c'è qualcuno, c'è qualcuno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.